la laurea che gli serve da paura dopo questa laurea diventerà ingegnere carta a straccia, carta a straccia, dopo un'ora l'occhio si è arrivato a prendere il ghiaccio che ha fatto cadere la professoressa l'hai fatta cadere tu? l'hai fatta cadere tu involontariamente e ora è andato a prendere il ghiaccio tutto agitato non è vero che ce l'ha visto qualcuno è arrivato con il ghiaccio come ti senti che hai un laureato in casa? finalmente si siamo una casa piena di risorse cosa cambierà nella vita del dono adesso che è laureato? finalmente potrà trovare un posto da mcdonald approderà della ghiaccio cosa cambierà nella vita del dono adesso che si laurea? allora, il tuo rameni? non il cervello cambierà prima il mondo dichiarazione post laurea? dichiarazione post laurea è andata, è finita pace a voi pace a noi